Cari ragazzi non ho fatto in tempo a proporvi la recensione del Samsung Galaxy S20 Plus che è uscita oggi alle 14 che ho già qua un altro contenuto bombo, un altro contenuto super interessantissimo sto parlando della MIUI, MIUI 12 è arrivata subito in beta, oggi è il 27 di aprile, è stata presentata oggi arriverà poi nelle prossime settimane su tutti i vari smartphone, vi lascerò linkato qua sotto in descrizione un articolo dove vi riportiamo tutto il changelog tradotto in lingua italiana perché le novità sono tantissime sotto il cofano e oggi vi faccio vedere nel video quelle che sono le novità a livello grafico, cambia veramente tanto ma tanto su questa MIUI 12 pregi e difetti perché magari a qualcuno potrebbe già non piacere, troppo simile al sistema operativo di casa Apple comunque sia ragazzi è finalmente arrivata, questo è il Mi 10, questa è la MIUI 12 io vi ricordo di schiacciare un bel tasto like qua sotto, ehi voi fan Xiaomi, forza un bel like su questo video condividetelo con tutti i vostri amici, fateli vedere, ehi guarda questa è l'interfaccia di casa Xiaomi iscrivetevi al nostro canale YouTube, io saluto tutta la community utenti Xiaomi Italia di Facebook che sempre condivide i nostri video e adesso andiamo a vedere quelle che sono le novità su questa MIUI 12 come vi ho detto prima le novità sono tante, allora questa è la nuova lock screen, questa è la nuova schermata di blocco guardate se io vado a cliccare con il tasto power on e power off si trasforma in quest'altra schermata allora gli sfondi ragazzi sono dinamici, sono anche carini, se ne trovano due di base, di default su questa MIUI 12 poi ovviamente i vari sviluppatori eccetera ne inventeranno di tutti i tipi però ecco molto bello questa qui della terra, guardate quando vado a sbloccare lo smartphone eccolo qua, avete visto, poiché con i 90 Hz, non oso immaginare con i 120 Hz cosa avviene fuori però guardate se io vado a muovermi all'interno della mia home screen, vedete, si muove anche lo sfondo in base a dove sto andando figata, pazzesca, ve lo rifaccio vedere andando a bloccare lo smartphone, avete visto un tap, eccolo qua, e poi là, si entra dentro la nostra home screen, si entra dentro il nostro smartphone allora entriamo nelle impostazioni, qui secondo me abbiamo già amore e odio, dipende, ecco ovviamente c'è la modalità dark, non vi preoccupate allora entriamo subito in my device, guardate com'è cambiata questa interfaccia, qui mi piace qui mi piace veramente tanto, anche quando entriamo nei menu mi piace però ecco, c'è da vedere anche un'altra cosina, non tanto in questa tipologia di menu ma quando entriamo proprio dentro ad un menu, non lo so, contestuale cioè lo vedete, vi ricorda un po' il sistema operativo di Microsoft, quindi sui vari Lumia, non so se ve lo ricordate ecco, mi ricorda quel tipo di sistema, quel tipo di font, quel tipo di stile mi piace, a me piace, molto carino, molto pulito, minimale, però ecco, magari a tanti potrebbe non piacere scritte con un font molto marcato, bold qui vi aspetto nel box, nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate intanto non so se notate, già questa piccola barra qua nella parte inferiore, nera è praticamente la barra che ci permette, come in Google, di andare da un'app all'altra ormai le gesture le abbiamo imparate di casa Google allora, torno un attimino indietro, perché usciamo, vedete, molto fluida l'animazione, molto veloce ho subito da farvi vedere un'altra cosa, allora, guardate, il nuovo multitasking delle app vedete, c'è questa nuova animazione, giacca è aperta, vi faccio vedere anche la nuova interfaccia dell'applicazione Meteo le app di base cambiano un pelino lato proprio interfaccia, quindi ve le consiglio poi magari di vederle piano piano sia per quanto riguarda il meteo, calendario, alcune funzioni le novità sono più che altro sotto al cofano, anche per quanto riguarda la privacy e la sicurezza allora, tornando un attimo indietro, vi faccio vedere quella che è la novità ecco qua, subito, secondo me vi può piacere o non piacere allora, voi siete abituati a fare questo, ok? siete abituati nella parte centrale a tirar giù e a vedere tutti i toggle rapida allora, cambiano un attimino le cose sulla parte sinistra troviamo le notifiche, sulla parte destra anche centrare il nuovo control center nuovo control center forse molto simile al sistema operativo di Apple ovviamente personalizzabile, potete andare a aggiungere o togliere toggle senza nessun tipo di problema c'è la possibilità tramite le impostazioni di tornare alla vecchia maniera, quindi non vi preoccupate però ecco, così, a primo impatto a me non dispiace, vedete? poi si possono tirar giù tutti i vari toggle, si possono abilitare o disabilitare e ci sono questi toggle rapidi, ad esempio se io voglio andare a togliere ed attaccare il wifi anche qua si può personalizzare il tutto a me piace, non so a voi l'unica cosa che vi volevo far vedere è che dalla parte centrale non tirate più giù la tendina delle notifiche quindi se volete le notifiche è nella parte sinistra se volete il control center è nella parte destra oppure parte centrale, questo ricordatevelo poi in questa versione se io faccio uno swipe dal basso verso l'alto interagiamo con questa interfaccia cinese che in questo momento non ci interessa assolutamente rivediamo lo sfondo che si anima in modo secondo me molto carino, molto bello ecco gli effetti ci sono, ci sono tutti in questa nuova MIUI vi faccio vedere anche altri effetti tipo se io voglio andare a disinstallare questa applicazione boom, fatto, avete visto la nuova animazione? ve lo faccio rivedere ok, molto carina ecco anche questa nuova animazione ho attivato un attimino la modalità dark se lo vedete adesso entrando nel menu dell'impostazione è tutto colorato di nero ma avete visto lo sfondo? è cambiato è cambiata perché ho abilitato il tema dark e di conseguenza la terra è diventata scura altra figata sicuramente di questa funzione poi entrando nel menu degli sfondi super wallpaper abbiamo questi due wallpaper che vi dicevo prima quindi The Red Planet oppure Home che è quello che sto utilizzando io vi faccio vedere anche The Red Planet così lo andiamo a scaricare, lo andiamo a impostare e vedete un po' la differenza di questi nuovi sfondi molto carina secondo me molto scenica questa MIUI mi piace, a me piace moltissimo per il font, per la pulizia, per la velocità, per le animazioni per questo sfruttare i 90 Hz con questi effetti scenici a me piace, non so poi la vostra opinione me la leggerò nel box dei commenti però come primo impatto è molto molto bella vi ricordo ancora una volta questa è una ROM beta quindi non installatela o meglio installatela solo se la volete provare e poi la togliete io l'ho installata tramite TVRP quindi tramite una recovery modificata e essendo una beta ragazzi non ve la consiglio se è il vostro unico smartphone allora ho installato il tutto ok vedete com'è cambiato anche questo effetto qui possiamo andare a installare un tool dedicato per quanto riguarda proprio il tema in questo caso andando a schiacciare vedete anche molto bello questo font in alto a sinistra questo carattere mi piace tanto vado a sbloccare ecco qua questo è l'altro sfondo che si muove che si anima anche in questa zona poi vabbè vedete un po' lo stile della grafica un po' lo stile dei caratteri cambia in tutto lo smartphone ma è normale vi ricordo qua sotto vi lascerò l'articolo completo con il changelog così ve lo andate a vedere ve lo andate a consultare queste erano un po' le piccole chicche le piccole novità grafiche della MIUI 12 ragazzi io come sempre vi aspetto qua sotto nel box dei commenti per discuterne insieme e anche per questo video il buon guerz vi ringrazio vi saluta e ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti